Musica Possiamo dire che iniziamo con il lavoro, iniziamo con questo nuovo ruolo, nuovo compito almeno qui in Calzedonia Che squadra hai trovato? Ho trovato una squadra che dal punto di vista del lavoro stanno lavorando, ci impegnano Dovranno migliorare la qualità, la miglioreranno sicuramente Se continuano a lavorare così devono trovare un po' più di fiducia nelle possibilità che hanno Credo che quella sia una cosa determinante La fiducia non solo che noi possiamo trasmettere ma la fiducia che loro devono avere di se stessi Perché quello è un aspetto che ultimamente non mi ha convinto molto Lasciando starete sulla squadra parliamo di te, il ritorno al grande volley, quali sono le sensazioni? Buonissime, se respirare questa aria, stare vicino ai giocatori, vicino a un tecnico che tra l'altro conosco All'ambiente, insomma mia moglie mi ha detto che da quando sono qua già non lo ascolto più Ho sempre la testa pensando alla pallavolo, quindi è un ambiente molto stimolante L'ultima cosa, la società ti ha voluto e ti ha cercato e soprattutto è stata una cosa velocissima Perché l'accordo è stato trovato in un batter d'occhio Sì, perché loro mi volevano e io volevo venire e quindi non c'è stato nessun problema a trovare l'accordo Con Gianni? Con Andrea? Ci troviamo benissimo, abbiamo già parlato Come ha detto lui, vediamo la pallavolo nella stessa maniera Se lui parleremo, ovviamente parleremo di pallavolo Perché chi ama la pallavolo parla sempre di pallavolo Io cercherò di dargli una mano soprattutto per cercare di gestire alcune situazioni Che magari sono un pochettino più complicate o che non sono direttamente compito dall'allenatore